Verrà trasformato in un centro di residenza turistica per anziani. Il Rosa Maltoni di Giulianova, l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza, ha trasferito la proprietà dell'immobile che si affaccia sul lungomare Zara al Ministero dell'Economia e Finanze attraverso l'Invimit, società che gestisce fondi da destinare al recupero del patrimonio immobiliare nazionale di maggiore pregio. L'ex colonia marina di Giulianova è nel nuovero delle strutture su cui avviare una progettazione di recupero per la realizzazione di quel modello residenziale che si sta sviluppando negli ultimi anni e che è rivolto al mercato della terza età. Il progetto si chiama Senior Housing, non si tratta affatto di case di riposo ma appartamenti di pregio con annessi servizi medici, commerciali, sociali che favoriscono l'abitare di anziani autosufficienti che cercano luoghi dove trascorrere gli ultimi anni della loro vita in serenità, in un contesto piacevole e ricco di servizi. Lo scopo è quello di mettere a reddito l'enorme patrimonio INPS per la maggior parte arrivato in eredità dall'ENAM, l'ente nazionale di assistenza magistrale l'ex fondo di assistenza degli anziani delle scuole elementari e dell'infanzia ad oggi spesso abbandonato e creare opportunità per chi oggi cerca una vecchiaia serena in altri paesi europei e non. L'obiettivo era quello di far partire da subito l'attività di progettazione finalizzate alla riconversione in residenze appositamente pensate per il mercato della terza età, dotate di una serie di servizi collettivi in grado di coniugare le esigenze di indipendenza con quelle di socialità ed assistenza con un investimento per la valorizzazione degli immobili per circa 24,6 milioni di euro una parte di questi fondi quindi destinati al Rosa Maltoni una bella occasione per Giulianova che potrebbe diventare luogo di residenza oltre che di vacanza di persone provenienti da tutta Italia e non solo, recuperando una parte di pregio della città da troppi anni abbandonata.